Sono le ore 8 e 54, io mi trovo in ospedale perché devo portorie, avrò un taglio cesario. Spero che andrà tutto bene, mi faccio sapere. Aiuto, mi hanno fatto vestire con questi vestiti io ci aggetta e tra un po' forse mi fanno altri accertamenti, vediamo. E niente, grazie a Dio è andato tutto bene e ora sto cercando di riposare un pochettino. Vediamo un po' come procede perché comunque ho bisogno di una convalescenza. Vediamo un pochettino. Un posto per tornare a casa, finalmente. Ho fatto un trucco veloce così e niente. Ho passato brutti i momenti però sono contentissima, finalmente torno a casa. Sono passata un bel po' di ore da quando sono rientrata a casa. Anche se ho dolori sparsi mi sento felicissima perché è come se stessi vivendo una seconda vita. Perché purtroppo il mio parto cesare non è andato benissimo. Ho avuto delle complicanze che non sto qui a spiegare. Purtroppo sono fasi della vita che uno non può prevedere. E ora mi sento rinata. Mi sento come se stessi apprezzando di più quello che ho. E a parte la gioia di un'altra bimba mi sento veramente una persona nuova. La bimba si chiama Irene Rihanna. L'ho voluta chiamare così per ovvie ragioni che già vi ho spiegato in altri video. e in pratica spero quanto più presto di poter fare altri video dove insomma mi mostro make up e altre cose. Un bacio a presto.